Sono ragazzi, giovani, noi capiamo che hanno bisogno di divertirsi, ma questo non è un divertimento, questo è un dispetto a tutta la gente che dorme, che lavora, si deve alzare presto, insomma, noi siamo andati alla quattura già. Esasperazione è la parola che più di altre in questo momento rappresenta lo stato d'animo degli abitanti del quartiere Vallato, a Fano, le cui abitazioni si affacciano sul grande spazio scoperto a ridosso della chiesa. Questo spazio è da tempo ostaggio di gruppi di adolescenti e ragazzi che hanno scambiato questo posto, soprattutto nei mesi estivi, per un luna park dello scempio e a notte fonda, con il contorno di schiamazzi, bivacco e abuso di alcol, come dimostrano i residui sparpagliati per il prato, tolgono il sonno a coloro che invece vogliono riposare. Aggiungiamo poi sgommate con i cinquantini e demolizioni di tutto ciò che gli capita a tiro, come la bicicletta sbrindellata in una decina di pezzi e sparpagliata per il raggio di una cinquantina di metri. Situazione che ha spinto i residenti a rivolgersi questa mattina direttamente al commissariato e a contattare la nostra redazione. Cioè, praticamente dalle otto e mezza fino alle quattro e mezza di mattina noi qui non dormiamo più. Chiediamo un aiuto perché qui non ce la facciamo più, andare avanti così. Sono in quanti più o meno? Ah, sono molti, molti, molti. Saranno una ventina, manca di più. La cosa si ripete da diverso tempo? Tutte le sere, tutte le sere si ripete. Alla domenica un po' di meno, ma se no tutte le sere. Sono entrati anche negli androni dei condomini? Sì, sì, hanno rovinato una porta dove teniamo i contatori dell'Enel. Un paio d'anni fa l'abbiamo fatta ritinteggiare, era tutta rugginita di urina e adesso hanno ricominciato un'altra volta.